Oggi in servizio lo apriamo così Mici di G7 siamo ad Imperia perché c'è la notte bianca Un appuntamento musicale dove avete protagonista Viva la città d'Imperia Dottor Glass e musica sul palco Fra pochi istanti Capitano Ventosa con la Ventosa Band Ma ricordiamo quelli che sono i punti Quelli che sono le officine I punti di riferimento di Dottor Glass, dove? Arma di Tacia, abbiamo Imperia, abbiamo Albenga, Savona, Cairo, Albizola Poi abbiamo officine mobile insomma Siamo presenti su tutta la piazza con servizio capillare in tutte le zone E il numero qual è? Il numero da chiamare? Il numero da chiamare è il numero verde 810 10 10 Perché Dottor Glass risolve Buonasera a tutti ma siamo qui alla notte bianca Grande anche la TG Evans che è sempre presente ai nostri concerti Già la nostra cantante si sta esibendo Tra un pochettino andrò anch'io sul palco e faremo un po' di canzoni divertenti Buonasera, buonasera a tutti Eccola qui la protagonista dei miei servizi a striscia Buonasera, buonasera, buonasera Buonasera, buonasera L'indirizzo ce l'ho Ritracciati non è un problema Ti telefonerò E ti offrirò una serata strana Grazie Valerio! Noi siamo contentissimi Abbiamo riscontrato un interesse per la Dottor Glass Siamo soddisfatti Insomma è stata una bella serata E soddisfacente Dottor Glass XR5 Stop!